Ragusa fa passi avanti per quanto riguarda la definizione degli strumenti urbanistici cittadini, annunciando due capisaldi che prevedono due aree di tutela per il centro storico, una corrispondente all'area patrimonio UNESCO e un'altra in cui saranno possibili certi tipi di interventi edilizi, comprese demolizioni e ricostruzioni a seconda dei casi. La Giunta Municipale ha infatti approvato lo schema di massima della variante generale al piano regolatore generale, un atto importante per il futuro della città, visto che l'ultimo PRG è stato approvato nel 2006. In questa fase sono definite le linee generali di assetto del territorio, in cui le trasformazioni sono subordinate alla redazione di piani attuativi e individuati principi operativi, strutturali e procedurali che devono essere rispettati per tutto il territorio comunale. Quello passato in Giunta, afferma l'assessore all'urbanistica Giovanni Giuffrida, è uno schema di massima molto dettagliato, il che favorirà i prossimi passaggi di approvazione e che ora è pronto ad essere illustrato e discusso con associazioni, cittadini e chiunque fosse interessato nel corso di incontri pubblici dedicati che partiranno da settembre. Il piano, ovviamente complesso, formato da 250 tavole con una relazione di 200 pagine, contiene diverse novità fondate su principi precisi. Su tutti l'essere calibrato su una stabilizzazione della popolazione e non su una costante, ma poi nei fatti disattesa, crescita. Vuol dire che lo sviluppo abitativo sarà possibile solo attraverso rigenerazione dell'esistente o in zone di completamento di aree urbane già residenziali e non più con nuove espansioni. Previsto quindi il rispetto del territorio naturale e rurale, con le zone agricole che avranno una cubatura massima in funzione dei livelli di tutela vigenti su ciascuna area. Quanto alle aree con vincoli decaduti, specifica l'assessore Giuffrida, queste verranno riqualificate secondo il sistema della perequazione.